La comunità dei fedeli della Basilica di San Francesco d'Assisi, Santuario di San Francesco Antonio Fasani di Lucera, si prepara alla festa di San Francesco 2021. Fino al 2 ottobre ci sarà il triduo, alle 18 il Santo Rosario, alle 18.30 la celebrazione eucaristica. Il giorno 3 ottobre ci sarà anche il transito alle 19.30, preseduto da padre Vincenzo Giannelli, rettore della Basilica Santuario. Lunedì 4 ottobre, giorno della festa, ci saranno le messe alle 8 e le 10 del mattino, mentre la sera alle 18 il Rosario, alle 18.30 la solenne celebrazione eucaristica, preseduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano, Vescovo di Lucera Troia. Parteciperanno le autorità civili e militari ed è prevista l'accensione della lampada votiva a devozione del Santo Patrono d'Italia da parte del Sindaco Giuseppe Pitta. animerà la celebrazione e il coro femminile della Basilica Santuario.